Allora, Terra Madre 2024, succedono cose bellissime, tra queste sono gli incontri o i rincontri. Intanto sono felice di condividere questi microfoni con Alberto Santonocito, ma intanto benvenuto a Luca Iaccarino. Grazie mille, grazie, grazie per l'ospitalità. Era da tanto tempo che non ci incrociavamo e sono contento, ho detto ad Alberto, lo incrociamo e questa volta una chiacchierata ai microfoni di RB e ce la facciamo. Giornalista, gastronomico, palato finissimo, ma neanche tanto, scrittore, parleremo di alcune cose in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione. Intanto benvenuto, Terra Madre è già piena di gente, tra questa intervista e la prossima mezz'ora c'è un pranzo tra l'altro, quindi non ti smettisci mai Luca Iaccarino, benvenuto. Uno viene qua per conoscere, per incontrare, per scoprire le cucine del mondo, ma anche per mangiare, se no sarebbe un convegno. Invece a me piacerebbe definire questa nuova veste di Terra Madre da due anni fa a questa parte come un happening, come diceva la nostra generazione di boomer. C'è un posto dove succedono le cose, succedono le cose che hanno a che fare col cibo, con la produzione e con gli incontri tra persone del mondo che è sempre una meraviglia. Io lascio tra poco la parola ad Alberto, però in realtà si parte da un elemento, perché stamattina abbiamo parlato anche con Serena Milano, la direttrice di Slow Food, c'è un elemento che ritorna ormai sempre di più rispetto anche a quello che ci succede intorno ai disastri climatici. È necessario, non è più rinviabile il prendersi cura, custodire l'ambiente, diciamo, e questo fa il paio anche poi con quello che mangiamo e via dicendo. No, qua dalla cura non si scappa più, cioè non abbiamo un'alternativa, no Luca? Alternative naturalmente non ce n'è, aggiungerei un carico che è quello, oltre ai disastri climatici, che naturalmente tutti avevamo presente, tutti tranne i governatori, governanti, visto che sul Green Deal stiamo decidendo di rinviare, che poi quando uno rinvia è sempre un modo per non farlo mai. Stiamo decidendo di non decidere, esatto, di non decidere, ma aggiungerei il carico delle cose orribili che stanno succedendo, le guerre che ci lambiscono, presto, ahimè, saranno sempre più vicine, io penso che Terra Madre, che non parla solo più di cibo, ma parla di incontri tra culture, possa fare nel suo piccolissimo, come si dice, il soft power della cucina, possa fare la propria parte anche su questo, cioè il fatto di vedere qua persone dal Medio Oriente, dall'Oriente, dall'Est Europa, dall'Est, che incontrano, quello è l'Occidente, eccetera, eccetera, insomma, almeno in questi giorni, almeno in questo posto, fa un po' sperare che il mondo possa non esplodere. E parliamo di internazionalità, adesso ragazzi di 20, 25 anni, 30, escono da Stesico, andiamo dal giapponese, andiamo dal thailandese, andiamo a mangiare spagnolo, se sono un po' più creativi, ma ho sentito di un ristorante argentino. Qui a Terra Madre c'è una dimensione internazionale e una dimensione prettamente italiana, però tu che ne avrai visti di saloni di questo tipo, tantissimi, secondo te è questa qui la provocazione? Per le prossime edizioni si parla più inglese, cinese, spagnolo che italiano? Ma io spero di sì, io spero di sì, accolgo la provocazione al 100%, nel senso che, diciamo, la cucina italiana non ha un problema di identità, abbiamo un'identità fortissima sedimentata nei millenni e solo chi ha problemi di identità ha paura di confrontarsi. Quindi il fatto che qua ci sia una persona da tutto il mondo, dall'estremo Oriente all'estremo Occidente, dalle Americhe, eccetera, eccetera, ci deve spingere intanto a imparare l'inglese o lo spagnolo, che ricordo, la lingua più parlata del mondo è lo spagnolo. E dobbiamo imparare le lingue, dobbiamo imparare a confrontarci con gli altri senza aver nessun timore. Ti dirò, io da questo punto di vista sono totalmente fluido, da altri punti di vista sono meno fluido, ma da questo sono fluidissimo, cioè penso che le cucine possano incrociarsi, meticciarsi, anche imbastardirsi, non è mai un male, l'importante è che siano cose buone, poi se sono cose cattive non va bene, se sono cause fatte solo per fare i soldi non va bene, se invece vengono fuori cose buone, e quindi più a terra madre si parla inglese, si parla spagnolo, si parla giapponese per chi riesce a impararlo, meglio è, a me piace il fatto di sentire parlare tutte queste lingue sotto queste volte, sotto queste tende. Però se posso dirti, quasi correggerti, l'unica lingua che si deve parlare a terra madre è quella del cibo, il buon cibo. No, certo, certo, il cibo, abbiamo avuto tante occasioni di dirlo, è, credo, sembra retorico ma non lo è, è la lingua più universale che ci sia, perché è l'unica, credo, che permette addirittura di parlare tra le specie, cioè nel senso che tu puoi fare amicizia con un cane, con un cavallo attraverso il cibo, cosa che non puoi fare in nessun altro modo, quindi certo, il cibo è la lingua più universale, ogni tanto ha bisogno del supporto della lingua proprio nel senso di quella parlata e quindi se ci confrontiamo con altri linguaggi, benvenga. Allora, intanto l'invito è a seguire Luca Iaccarino anche sui suoi canali social, perché guardando, cioè si ingrassa, diciamo, guardando soltanto le storie di Luca Iaccarino che gira il mondo e racconta il cibo, racconta anche chi lo fa, chi lo cucina il cibo. Questo signore è anche un fine scrittore, a giugno è uscito, qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Italia per E.D.T. Allora, una domanda magari anche in chiusura, perché il pranzo incombe, ma tu che conosci anche tanti cuochi, ne scrivi anche un romanzo, però insomma mi viene anche da dire che forse anche basta la spettacolarizzazione del cibo, diciamo, no? E tu ne scrivi anche sul Corriere della Sera, cioè possiamo tornare un po' alla base, diciamo, al cibo che alimenta o, come dire, l'elemento estetico, dall'elemento estetico non si scappa più. Sono d'accordo a metà col mister, no? Sono sostanzialmente d'accordo nel senso che, secondo me la spettacolarizzazione ha avuto un ottimo ruolo all'inizio del terzo millennio, perché ha fatto divulgazione, ha fatto divulgazione, cioè il fatto che il cibo finisse in televisione, sui social, ha creato una cultura della gastronomia, dell'alimentazione, ma anche della gastronomia molto diffusa. Penso che adesso questa cosa è acquisita, i cuochi, infatti io li ammazzo, proprio perché ammazzo quelli famosi, quindi sono assolutamente d'accordo con te. Ti dirò una cosa in più, parlando in questo caso di ristorazione, il libro stesso, il romanzo, che è un giallo gastronomico, spero divertente, è dedicato ai camerieri e alle cameriere, cioè io credo che in tutta questa grande saravanda che si fa attorno alla ristorazione, ai cuochi, invece non abbiano ancora lo spazio che meritano le persone che fanno servizio, che poi sono quelle che davvero ci fanno stare bene. Concludo dicendo questo, so che molte persone sono d'accordo con me, qualcuno non lo sarà, ma va bene, pace allo stesso, in un ristorante in cui si viene trattati molto bene, si mangia così così, si torna, in un ristorante dove si mangia molto bene, ma si viene trattati a pesce in faccia, non si torna mai più. Quindi il cibo, e sono certo che solo food sia d'accordo con questo, o se l'Italia del resto fa proprio questo, è prima di tutto una questione di stare bene insieme, accoglienza, convivialità e poi naturalmente di prodotti buoni. Ultimo versante letterario, se nel 2017 qualcuno stava uccidendo i più grandi cuochi d'Italia, nel 2024 qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di Torino, ci aspettano i cuochi europei, quelli che conosci, i tuoi amici. Questa è un'ottima domanda, qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Europa, non posso scriverlo perché esiste un film molto divertente. E volevo portarti qui. Certo, cui mi sono ispirato di Todd Kochev degli anni 70, potrò fare, qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi del mondo, se qualcuno mi paga i biglietti, però posso anche farlo qua, visto che ci sono tanti stranieri. Ma, una curiosità, quindi tu spergiuri che non hai mai fatto una foto a un piatto? Ma per carità di Dio, io le faccio tutti i giorni. Fanno le foto a Iaccarino con i piatti, in realtà. No, no, però ti dirò che anche se sono meno fotogenici, mi piace di più fotografare i, come prima ne parlavamo con Francesco, i piattoni di spaghetti con la bottarga sopra in porzione, diciamo, pantaguelica, rispetto ai due fiorellini, alle cosine, che sono tutte belle, però... Che non puoi neanche mangiare. Esatto, molto spesso, quasi ti spiace mangiare. E poi il problema dell'instagrammabilità esiste, nel senso che ci sono, ahimè, troppi cuochi che fanno piatti più belli che buoni. Io starei per la prossima... Suggerisco ai produttori. Ma c'è un pranzo. C'è un pranzo. Andiamo qua, nella quarta stagione di The Bear, secondo me tu dovresti esserci. Luca Iaccarino, giornalista gastronomico, grazie per essere stato qui con noi. Grazie, grazie. Grazie tantissimo. Buon appetito.